L'impianto del gas. Il gas metano viene distribuito sul territorio nazionale attraverso i metanodotti, delle grosse tubazioni come quelle che si vedono qui in figura e che attraversano tutta la penisola come una rete, importando gas dal nord Europa, dalla Russia e dall'Africa. Il gas attraverso questa rete arriva fino al contatore di casa nostra. Da qui parte un tubo con una valvola di sicurezza che si può chiudere in caso di guasti o di fughe di gas e va a distribuire il gas ai fornelli, alla caldaia. La caldaia produce acqua calda che va nei termosifoni per scaldare la casa e va anche negli impianti idrici come le docce e i lavandini. Il gas serve principalmente a due reti domestiche. Una è quella del semplice impianto del gas, cioè dalla rete di distribuzione il gas arriva al contatore, poi c'è la valvola di sicurezza che si chiude in caso di fughe o in caso di guasti e di qui va ai fornelli che sono sempre preceduti da un'altra valvola di sicurezza, e agli scaldabagno che scaldano l'acqua necessaria per gli impianti sanitari. Sia i fornelli che lo scaldabagno devono sempre avere una cappa con una canna fumaria che porta i fumi all'esterno. Ma quello che qui vediamo sdoppiato in realtà un unico impianto, dalla rete di distribuzione passati valvole contatore, il gas arriva più frequentemente diciamo a una caldaia. La caldaia scalda dell'acqua che oltre ad andare nei bagni va anche, vedete questo tubo rosso, va nei termosifoni dove una volta raffreddata ritorna la caldaia attraverso questi tubi azzurri. Qui torna a riscaldarsi e ricomincia il ciclo. Anche la caldaia deve essere collegata con un tubo che porta all'esterno i fumi della combustione. Qualche regola di sicurezza. Le stanze con apparecchi a gas devono avere sempre finestre o griglie come queste numerate con il numero 1 e il numero 2 per garantire il ricambio di aria. I fumi della combustione devono sempre essere inviati all'esterno mediante una cappa, un camino e canne fumarie. I fornelli devono avere dispositivi di sicurezza che bloccano l'uscita del gas quando la fiamma si spegne. E infine gli impianti devono essere attenuta, cioè non devono mai esserci perdite di gas per cui ogni tubo deve essere perfettamente intero, nessun forellino, nessuna fessura da cui possa fuoriuscire il gas. Quando si esce da casa bisogna sempre chiudere la valvola del gas vicino ai fornelli. Non bisogna mai accendere fiamme vicino a bombole di gas. Aprire il rubinetto del gas solo dopo aver avvicinato il fiammifero acceso. E infine non riempire troppo le pentole. I liquidi in ebollizione possono uscire dalla pentola, spegnere la fiamma e in questo modo potrebbe uscire il gas. Non bisogna neanche allontanarsi dalla cucina dimenticando pentole incustodite sul fuoco.